Io non lo trovo, mi bastava una goccia, così per soddisfazione, neanche una goccia, sono il capo di Bù più scarognato dallo sbarco di Normandia che esiste al mondo, ma niente gasolio, petrolio non c'è, inutile, inutile, e quelli la cui Bù degli Arapao ci hanno un culo tanto, che se io fossi Mennea, farei cento metri, mi prenderei il petrolio, vengo lì, vengo qui la notte, mi faccio dei barilotti, invece niente, non posso fare niente, me l'aveva detto perfino Lemiro, dai sul monte Camarazza che c'è il petrolio, oh cazzo il petrolio, guarda se viene fuori il petrolio, mamma mia, gasolio, gasolio, niente, niente, il petrolio non dobbiamo rinunciare, ma io insisto, il petrolio serve per la nostra tv, noi andiamo a petrolio.